Salve! Oggi sono veramente euforico perché ho la possibilità, soprattutto grazie a voi, di chiamare adesso Massimiliano Allegri e fargli qualche domanda sulla Juventus. A proposito, la Juventus mi ha appena chiesto se posso chiamarlo adesso perché poi ha degli impegni da fare e quindi adesso lo chiamo. Si è pronto? Salve mister, sono Leonardo, il ragazzo che le deve fare qualche domanda. Quindi possiamo iniziare subito, no? Si, si certo, se preoccupi, mi dica pure. Perfetto, allora le chiedo subito, secondo lei la Juventus dopo la scorsa sessione di mercato si è rinforzata oppure no? Ma sicuramente ci siamo rinforzati per bene perché comunque sono arrivati giocatori molto importanti, ci danno una grande mano, ci la stanno già dando. Quindi per quelli che comunque criticano questa Juventus, so che fare. Perfetto, però al momento la Juventus ha qualche problema e questo problema pare essere il gioco. Lei ci può dare qualche spiegazione a riguardo? Ma guardi, sinceramente penso che il gioco ci sia, ci sia in parte. Infatti io ho chiesto a Camarotta di comprarlo a gennaio. Ah, addirittura di comprarlo a gennaio. I giocatori magari sono un po' sottotano perché romano poco. Le loro mogli magari non gliela danno troppo spesso. E niente. E appunto collegandoci alla domanda precedente, molti tifosi vorrebbero un suo esonero. Qual è il suo pensiero a riguardo? Ma guardi, sinceramente a questi tifosi li inviterai tutti quanti ad andarsene a fare c***o. No, per terminare, una domanda che le vorrebbero fare tutti i tifosi. Questa Juventus può arrivare a Cardiff? Ma, sinceramente ci possiamo arrivare. La strada sarà lunga e difficile, però giustamente se noi compriamo il biglietto con Ryanair... Ah beh, giustamente, magari spendiamo anche poco. Grazie mille mister. Proprio la voglio ringraziare con tutto il cuore per la sua disponibilità e per avermi permesso di farle qualche domanda che per me è assolutamente un grandissimo onore. Grazie a voi, grazie a voi che ogni volta comunque mi fate divertire. È stato un piacere. È un onore mister. Non la disturbo più. Grazie ancora e arrivederci. Grazie, buona serata. Arrivederci. E anche stasettimana qui la nostra cagata l'abbiamo fatta. Ovviamente era un video ironico, era un'idea abbastanza divertente perché mi piacerebbe veramente fare qualche domanda ad Allegri solo che purtroppo questo è l'unico modo che ho, ovvero chiedendo l'imitazione a Gabri. Io spero ti sia piaciuto e che tu l'abbia preso con ironia o come un video divertente perché il fine era quello. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace scrivimi qui sotto un commento dicendomi se quantomeno era simile l'imitazione e soprattutto se il video ti è piaciuto. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale e perché no, se ti va condividilo e fai vedere questo scherzo a qualche tuo amico. Detto ciò, noi ci vediamo giovedì con la prima live sul canale dalle 3 alle 4 quindi se non avete qualcosa da fare siete i benvenuti potete lasciare già in pagina o qui sotto qualche domanda dove io e Dani risponderemo. Fortunatamente tra pochi giorni tornerà la Juventus. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare. Fino alla fine. Forza Juve! Forza Juve!